Chiese e Pieve di Bono in particolar modo ospita quest'anno la Sagra del Folclore che è giunta alla sua quarta edizione. Si tratta di una manifestazione paesana e popolare che coinvolge tutte le forze vive dei nove centri abitati della conca pievana e dei paesi vicini. Grazie a tutti. Grazie. Un incontro comunitario che si concretizza in tre giorni di festa, di dibattiti, di cultura, di svago. La Sagra del Folclore è ospitata presso le infrastrutture del centro scolastico di Pieve di Bono. Si tratta di edifici e spazi non solo destinati ad esclusivo uso scolastico ma disponibili e rispondenti anche agli usi sociali come vediamo appunto per la Sagra del Folclore. La festa è iniziata venerdì 16 luglio alle ore 10 con l'apertura della mostra fotografica che continuerà con una serie di manifestazioni e attrazioni nei giorni di sabato 17 e domenica 18 luglio. Fra i diversi punti di ristoro l'osteria, una tipica osteria che ha trovato senz'altro il consenso di tutti i visitatori. La festa è iniziata venerdì 16 luglio alle ore 10 con l'apertura della stagione. La festa è iniziata venerdì 16 luglio alle ore 10 con l'apertura della stagione. la festa è iniziata venerdì 16 luglio alle ore 10 con l'apertura della stagione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.